Age di Ustica, 41 anni di dubbi e misteri, parliamo di quanto avvenne il 27 giugno del 1980. Sono passati dunque 41 anni e sono stati già ricordati e celebrati con le commemorazioni che si svolgono ogni anno e sono stati 41 anni, dobbiamo dirlo, di incessanti polemiche, di posizioni assolutamente granitiche dalle quali nessuno si discosta. Adesso ne parliamo con uno dei nostri ospiti che è un po' il compagno di viaggio quando parliamo di indagini ad alta quota per mutuare un termine, un titolo molto in voga. Lo ritroviamo con piacere, l'esperto sicurezza volo Antonio Bordoni, bentornato a Cusano Italia TV. Buonasera e grazie dell'invito. Prima però di sentire quella che è l'opinione dell'esperto sicurezza volo sulla strage di Ustica, presentiamo e ricordiamo la vicenda con il servizio di Aurora Vena, montaggio di Claudia Di Fonzo. Il 27 giugno 1980 dall'aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna parte il volo Italia IH 870 direzione Palermo. Sono le 20.08, due ore dopo l'orario in programma. A bordo 81 persone. L'arrivo allo scalo di Punta Raisi è previsto per le 21.15. Il DC-9 viaggia regolarmente e durante il volo non è segnalato alcun problema, ma poco prima delle 21 del velivolo si perdono le tracce. L'aereo è precipitato nelle acque del mar Tirreno. Nella notte numerosi elicotteri, aerei e navi partecipano alle ricerche nella zona, ma solo alle prime luci dell'alba un elicottero di soccorso individua a circa 110 km a nord di Ustica alcuni detriti in affioramento e i primi corpi delle vittime. Delle persone a bordo, 77 passeggeri, di cui 11 bambini e 4 membri dell'equipaggio, nessun sopravvissuto. La mattina dopo, tutti i giornali riportano notizie della tragedia e si iniziano anche a fare le prime ipotesi sulle cause del disastro. Cosa può aver causato la caduta del DC-9? Forse un cedimento strutturale? Un missile aria-terra? Una battaglia tra jet militari che colpisce, per sbaglio, un volo civile? Oppure una bomba? A 41 anni di distanza, tanti aspetti della tragedia rimangono ancora avvolti nell'oscurità. Ma sebbene alcune sentenze civili che hanno accordato il risarcimento ai familiari delle vittime accreditano l'ipotesi per cui l'aereo potrebbe essere stato colpito per errore durante una battaglia militare. La strage di 41 anni orsono, nel cielo di Ustica, ha lasciato la Repubblica senza una verità univoca, capace di ricomporre appieno il quadro delle circostanze e dei responsabili. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 27 giugno scorso, in occasione delle commemorazioni. I fatti con Aurora Vena e Claudia Di Fonzo per il montaggio. Avete sentito, visto il servizio che ha ricostruito quello che avvenne il 27 giugno del 1980 e anche l'attualità con le recenti dichiarazioni del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, su quella strage di Ustica. Torniamo dal nostro ospite Antonio Bordoni, ricordando peraltro anche quello che è il libro che ha scritto a proposito di Ustica, eccolo qui, IH870, Ustica, gli eretici, i BN Editore. Ecco gli eretici, diciamo subito perché Antonio, perché tu hai sempre sostenuto un'altra tesi rispetto a quella che mediaticamente, anche dal punto di vista delle istituzioni, viene considerata la tesi ufficiale. Però proprio le parole di Mattarella fanno riflettere, perché parla di una situazione per la quale ancora non c'è una verità univoca. Non è ufficiale la situazione che si è creata in Italia. Sulla situazione di impasse che si è venuta a creare su questo incidente, io vorrei invitare tutti a riflettere su un particolare molto importante. Se voi prestate attenzione a tutti i dibattiti che si svolgono su Ustica, ascoltando i confronti dialettici dei personaggi che si alternano a sostenere le rispettive tesi, noterete che affermano che quel giudice ha detto che la sentenza afferma che la Cassazione ha stabilito che il tribunale ha detto che, eccetera, eccetera. Ebbene, tutti questi termini indicano un clima processuale da aule giudiziarie. Tutto ciò è surreale, è assolutamente fuori da ogni logica ed è assolutamente contrario a ciò che è avvenuto all'indomani di un incidente aereo in ogni paese aeronauticamente civile. Io vorrei ricordare che il 17 luglio 2014, nei cieli dell'Ucraina, è stato abbattuto per errore con un missile, un Boeing 777 della Malaysian Airlines. L'incidente ha causato la morte di tutti i 298 occupanti a bordo. Ebbene, oggi, per quell'incidente, al grado fin dall'inizio, se si sospettasse l'affattimento, sono disponibili due, ripeto, due distinti rapporti. Uno, quello tecnico, svolto da investigatori aeronautici professionisti, e l'altro, quello giudiziario, che ha il compito di appurare chi è stato l'autore materiale della sciaguta. Questo è il modo di procedere, corretto. L'autorità giudiziaria non può e non deve venire in vestita di due compiti in sovrapposizione in contemporanea. Ecco, avremo molti contributi, lo anticipo, in questo capitolo da ascoltare, oltre al servizio. Adesso, visto che abbiamo un ospite che ci sta dicendo delle cose basate anche su dati reali, a proposito dell'assenza di quella che fu l'indagine tecnica, che non fu l'indagine tecnica per questo incidente, sentiamo, per così dire, un'altra campana. Il pensiero di Andrea Purgatori, ribadito il 27 giugno del 2020, in occasione del quarantesimo anniversario della strage di Ustica. Lui, giornalista del Corriere della Sera, quando era cronista del Corriere della Sera, coniò proprio la definizione, il muro di gomma. Andrea Purgatori. La verità si conosce, abbiamo lo scenario completo, tranne, diciamo, il momento finale. Ma sappiamo che l'aereo volava in mezzo a molti aerei militari, sappiamo che quella sera c'era un'azione coperta di guerra, e quindi sappiamo anche che, insomma, l'aereo è stato abbattuto, al di là di tutte le considerazioni. E questo era Andrea Purgatori, l'anno scorso, il 27 giugno del 2020, in occasione della consueta commemorazione per la strage di Ustica. Antonio Bordoni, per ricollegarci a quello che dicevi prima, per Ustica i due compiti, che ricordavi, sono stati affidati invece a un unico soggetto. Allora, come avete notato, qui dice sappiamo, 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 in realtà è questo plurale, ma gli stati l'hanno creato loro, ma, diciamo così, non trova affatto supporto in quello che sono state le conclusioni della Cassazione, quando ha detto che lo scenario della battaglia è uno scenario fantapolitico. Quindi, per favore, se queste teorie potevano andare bene, finché il 19 è rimasto sepolto nei fondali marini, oggi che l'abbiamo recuperato per il 94%, e che non si è trovata nessuna traccia del missile, e che non c'è nessuna traccia di spiebuchellamenti vari alla Carling, eccetera, eccetera, che indichino una battaglia aerea. Ma perché si deve continuare a dire sappiamo, sappiamo che c'è stata una battaglia aerea, sappiamo che è stato abbattuto? Ma queste teorie potevano andare bene fino al 1988, quando l'aereo giaceva in fondo al Martireno. Una volta che l'elitto è stato recuperato, una volta che si è visto che non c'è traccia del missile, ma come si fa ancora oggi a sostenere che sappiamo che c'è stata una battaglia aerea? Le rogatorie non hanno avuto nessun riscontro ufficiale, perché non c'è stato nessun paese coinvolto in nessuna battaglia aerea. Ma voi vi rendete conto che cosa vuol dire abbattere un aereo civile mentre svolge un servizio di linea, così, da parte di un aereo militare? Io posso concordare che per un mese, due mesi, un anno, finché Gheddafi era in vita, magari se ci fosse stato un collegamento con Gheddafi, questa teoria poteva rimanere in essere. Ma, santo Dio, ma scusate, recuperato il relitto, non c'è traccia del missile, non c'è traccia di battaglia aerea, come d'altra parte indicano pure i plotaggi radar, che non c'era nessun aereo intorno al 19 Italia. Ma come facciamo ancora oggi a sostenere la tesi della battaglia aerea? Ma veramente, è un paradosso soltanto italiano. Ma per quale motivo, a tuo giudizio, perché poi alla fine, se non è, l'ho detto prima, l'ha ribadito anche Mattarella, non abbiamo certezze in proposito, si insiste su questo. Ricordando, ce lo dicesti in un'altra occasione, che c'è un'altra associazione dei familiari delle vittime di Ustica che non ha sposato questa tesi. Assolutamente, c'è l'associazione della signora Cavazza, che non si è unita all'associazione fondata dalla Bonfietti, che abbiamo visto prima, e che ha preso le distanze dalla versione ufficiale. Io vorrei soltanto ricordare che all'indomani di un incidente aereo bisogna istituire una commissione tecnica la quale stabilirà che cosa è accaduto a quell'aereo. Se per caso, nel corso di questa indagine, viene appurato che è stata messa una bomba a bordo, che c'è stata una battaglia aerea, allora il giudice penale, diciamo così, l'autorità giudiziaria, dovrà intervenire per cercare di chiarire chi è stato a mettere la bomba o chi è stato a sparare il missile. Ecco, questa via, che è quella ufficiale, non si è seguita, tant'è vero che, recuperato il relitto, l'inchiesta tecnica non è stata più svolta. All'ICAO di Montreal non risulta depositato alcun rapporto investigativo. L'autorità giudiziaria si è trovata con il duplice compito di cercare di capire che cosa è successo al 19 Italia e chi è stato eventualmente a compiere l'atto illecito. Ma questo compito di determinare cosa è successo al 19 Italia dal punto di vista tecnico o dal punto di vista di una battaglia aerea ipotetica, non spettava, non spettava l'autorità giudiziaria. ripeto, nei cieli ucraini è stato abbattuto un Boeing 777, 298 vittime, l'autorità tecnica ha stabilito perché è caduto quell'aereo, è intervenuta l'autorità giudiziaria che si è messa a indagare chi è che abbia sparato il missile. Così si procede, non si dà tutto in mano all'autorità giudiziaria, dice, senti, cerca di capire che cosa è successo al 19 e cerca di capire eventualmente chi è stato il colpevole. No, cosa è successo a bordo del 19 lo deve indagare l'autorità tecnica e io qui vi posso dire quello che ho detto l'altra volta, che i tecnici stranieri chiamati a indagare su Ustica hanno detto senza dubbio alcuno bomba, è scoppiata una bomba nei pressi della toilette del 19 Italia. Punto. Se si continua a indagare per 41 anni verso una pista sbagliata che è quella della battaglia aerea che non si è mai svolta e allora non ci meravigliamo se continuiamo a parlare di mistero perché non si vuole indagare in questo verso qui. Guardate, io ve ne potrei raccontare tante, 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 tante di avvenimenti su questa tipologia di incidente. Voi lo sapete che il primo gennaio 1976 un Boeing 720 della Mea è esploso in volo mentre volava sui cieli dell'Arabia Saudita ed è caduto sulla terraferra. È scattata l'indagine, è scattata l'indagine e si è appurato che anziché esserci 82 corpi come avrebbe dovuto essere secondo il manifesto di carico dell'aereo se ne trovarono soltanto 81. Bene, da questo fatto qui dall'avere scoperto che anziché 82 passeggeri a bordo se ne erano imbarcati 81 si è cercato di capire chi fosse il passeggero che si era prenotato che non si era imbarcato che aveva messo una valigia con la bomba è stato individuato era di un gruppo yemenita e questo personaggio ha detto era mia intenzione far scoppiare la bomba una volta che l'aereo era arrivato all'aeroporto yemenita dove la sua destinazione finale purtroppo per una serie di ritardi quindi senza causare vittime non avrebbe dovuto causare vittime esatto purtroppo per una serie di ritardi del volo con cui partì da Beirut l'aereo è esploso in volo ma io vi dico una cosa che se quell'aereo fosse caduto nel mare anziché sulla terraferma oggi a Beirut l'autorità libanesi si starebbero ancora chiedendo come mai quell'aereo è caduto che cosa è successo quell'aereo è caduto sulla terraferma si sono contati i corpi recuperati ci si è accorto che ne mancava uno si è risalito all'attentatore tramite questa pista qui anche per Ustica io vi vorrei ricordare che alle ore 20 e 59 ora dello scoppio sul Martirreno l'aereo da un'ora e mezza si sarebbe dovuto trovare sulla pista di Palermo perché l'orario e il timetable dell'Italia indicava che IH 870 era l'ultimo volo della giornata che doveva terminare a Palermo alle 19 e 30 quindi alle ore 21 quell'aereo doveva stare vuoto sull'aeroporto di Punta Raisi ora io vi chiedo immaginando un attentato dimostrativo chi è quel personaggio che avendo causato 81 vittime mentre invece voleva far scoppiare un aereo vuoto sulla pista di Palermo sull'aeroporto di Palermo si va ad autodenticiare anche questa era una pista che andava seguita e che non è stata seguita per niente è soltanto stato detto no ma non c'è stata nemmeno una rivendicazione quindi non può essere stata una bomba e certamente non c'è stata rivendicazione come non c'è stata rivendicazione nel caso dell'aereo della Mea perché uno pensa di farla franca poi guardate che la faccenda delle due ore di ritardo da Bologna non ha assolutamente alcuna rilevanza si è continuata a dire questa balla scusate un po' d'acqua prego prego si è continuata a dire questa balla che non poteva essere una bomba perché l'aereo è partito con due ore di ritardo da Bologna ma che cosa significa questo nel 1980 è dimostrato che si potevano avere a disposizione bombe che si potevano settare nell'arco delle 24 ore quindi anche qui si sarebbe dovuto indagare chi era salito a bordo degli itigi in tutte le tratte precedenti che ha fatto il volo quel giorno e ne ha fatte tante scusia ne ha fatte tante ne ha fatte 5 o 6 non è stata seguita nemmeno questa pista allora quando uno ossessivamente vuole seguire una sola pista non sta facendo la cosa giusta perché purtroppo indagare su un incidente aereo è come essere un investigatore tu non puoi fare l'investigatore se c'è un'idea fissa e dici tu sei il colpevole fin dall'inizio io seguo questa pista perché ti voglio incastrare e fino alla fine te seguo solo questa e non le seguo nessun'altra non si fanno così le investigazioni aeronautiche e allora prima di andare alle conclusioni perché so che comunque Antonio Bordoni peraltro l'acqua non è casuale perché quando parla di ustica lo sentite comunque ha un tono si accolora più rispetto a quando trattiamo altri casi di incidenti aerei ma si perché si continua a parlare di missile ma come si fa a parlare ancora oggi di missile scusate lo volete sapere volete sapere un'altra cosa preso atto che sul 19 recuperato non c'è nessuna traccia di missile lo sapete cosa si sono inventati i sostenitori della battaglia aerea la quasi collisione in volo ragazzi io vi posso assicurare ho classificato 5.000 incidenti aerei nel mio database va bene l'ipotesi di quasi collisione in volo cioè che un aereo passa talmente vicino ad un altro da causarne la caduta e la disintegrazione in volo non è mai avvenuta questo fatto che si è dovuto ricorrere alla quasi collisione dimostra che non c'è stato il missile perché se tu sostenitore della battaglia hai trovato il missile non hai bisogno di ricorrere all'ipotesi della quasi collisione perché dici quasi collisione perché sai bene che sul relitto di Ustiga non c'è traccia del missile non c'è traccia e vi dirò ancora di più quell'aereo quello che è stato trovato dell'aereo del relitto non doveva essere esposto in una pubblica piazza in un museo a Bologna né altrove perché finché si hanno dei dubbi su chi è stato e che cosa è successo a bordo di un aereo quell'aereo va tenuto a disposizione dell'autorità giudiziaria in modo tale che se si volesse domani riaprire una indagine la si potrebbe fare con del materiale non diciamo così artefatto mentre invece portandola a Bologna esponendola al pubblico poi sinceramente cosa ci sta da esporre a un relitto di un aereo che ha causato tantun vittime io sinceramente lo trovo di pessimo gusto esponendola al pubblico si è pure impedito di procedere con le indagini come si sarebbe dovuto fare perché l'ICAO lo dice chiaramente che il relitto ciò che rimane dell'aereo deve rimanere a disposizione dell'autorità inquirente intanto che non venga stabilita l'esatta causa dell'incidente noi abbiamo fallito non solo nel non fare l'indagine tecnica nel dare tutti tutta l'indagine nelle mani di un giudice peritum peritorum che ha deciso lui cos'era successo sentiti i periti i quali litigavano fra loro ma addirittura abbiamo fallito anche nel non saper mantenere ciò che rimaneva la prova che rimaneva di questo incidente del 19 dell'Italia l'abbiamo esposto al pubblico abbiamo così rovinato qualsiasi possibilità di poter procedere ulteriormente in altre indagini io voglio augurarmi che tutto questo sia stato fatto senza pensare male che non si voleva che ci si mettesse ulteriormente le mani eccetera eccetera perché sennò sarebbe ancora più grave e chiudiamo con le tue indagini personali nel senso che continui a scavare su questa vicenda alla ricerca di nuovi particolari sulla strage di Ustica hai per caso da raccontarci qualche nuova scoperta? come no come no certamente certamente voi dovete sapere che il 16 aprile 2013 purtroppo non me ne ero accorto prima infatti non l'ho potuto scrivere nel mio libro il 16 aprile 2013 l'unità il quotidiano l'unità ha pubblicato un interessante servizio dove si intervista la hostess dell'Italia che aveva fatto il volo incoming diciamo così che è stato poi preso in carica dal comandante Gatti e da Fontana bene e gli hanno detto il Charlie la compagnia l'Italia l'ha invitata a rimanere a bordo a non scendere da litigi perché non si trovava un passeggero non si trovava un passeggero bene vi risulta che qualcuno abbia indagato mi ricollego a quello che vi ho detto prima la MEA 436 l'attentato di Muscat era la destinazione vi risulta che qualcuno abbia indagato su questo aspetto del passeggero mancante all'aeroporto di Bologna questa hostess ha detto lo si può leggere nell'articolo dell'unità nessuno mi ha mai interrogato nessuno mi ha mai chiamato in merito qui torniamo al mio punto di partenza quando si parte con un'idea preconcetta su ciò che possa essere accaduto non si raggiunge la verità si fa un torto un massacro alla ricerca della verità se si vuol fare l'investigatore aeronautico bisogna partire da zero avere il campo livellato al massimo e non pensare subito potrebbe essere successo questo o quest'altro e vi dirò ancora un'altra cosa che forse può interessare a tutti i nostri ascoltatori il copilota Fontana mentre stava a bordo degli ITG ed era prima dell'imbarco dei passeggeri ha chiamato il Charlie di Bologna il Charlie è la stazione radio di cui si avvalgono le compagnie aeree per le loro comunicazioni ha chiamato il Charlie di Bologna e gli ha detto dice sentite io qui a bordo nel Galley vicino alla toilette guarda caso ci sta un pacchetto di cui nessuno mi ha notificato la presenza di che si tratta da terra gli hanno risposto non ti preoccupare tienilo a bordo perché contiene un attuatore un dispositivo che durante la notte durante la sosta a Palermo deve venire montato sul 19 ok dovete sapere che l'ITG prima di giungere a Bologna era già stato a Palermo allora quel pacchetto dove è stato caricato da chi è stato caricato e perché non è stato notificato all'equipaggio di Fontana e Gatti che comandavano il 19 ITG da Bologna a Palermo guardate che avete a bordo questo apparecchio gli hanno detto che doveva essere portato a Palermo perché doveva essere montato durante la sosta notturna però quegli TG quell'aereo già veniva da Palermo già era stato a Palermo nella tratta precedente quindi l'avrebbero dovuto scagliare lì e poi ripeto per quale motivo non è stata notificata la presenza di questo pacchetto misterioso a bordo dell'aereo quando c'è company mail company material diciamo così l'equipaggio che prende l'aereo deve venire avvisato guarda che ti sto dando questa borsa questo pacco che contiene materiale di compagnia Gatti e Fontana non erano stati informati che a bordo c'era questo pacchetto peraltro fino alla toalette questa cosa impietante fino alla toalette dove se bomba è stata ha detto che è scoppiata la bomba va bene dove Teglio ha detto che è scoppiata la bomba e guarda caso ve ne dico un'altra quando c'è stato l'interrogatorio degli addetti a terra dell'Italia questi hanno detto che non trovavano più il foglio la copia gialla del quaderno tecnico di bordo che doveva contenere tutte le informazioni che venivano date al comandante prima della partenza del volo quindi guardate che di cose da investigare ma ve ne potrei dire a Iosa che sono stati tutti trascurati tutte trascurate e poi curiosità mia io ricordo che alcuni esperti qualcuno disse che deflagrazione ci fu ma dall'interno dell'aereo quindi si presume che se è stato un missile la deflagrazione è esterna non ricordo chi disse questa cosa i primi esperti i primi accertamenti allora guarda in quegli anni era per default se tu volevi far fuori un aereo mettevi la bomba a bordo io ve ne potrei raccontare a decine di casi di aereo abbattuti con la bomba a bordo quando la commissione Luzzatti chiuse i battenti nell'82 disse che a bordo c'era stata un'esplosione però però non avendo recuperato nemmeno il 5% del relitto non poteva guardate se volete che andiamo avanti con le indagini portate su il relitto e diciamo così noi tecnici vi porremmo essere più precisi ma già la commissione Luzzatti aveva parlato di esplosione interna senza altro grazie ad Antonio Bordoni per questo nuovo capitolo su quella che è stata la strage di Ustica soprattutto il suo parere da esperto sicurezza volo da chi ha indagato ricordiamo il libro se volete leggere IH870 Ustica gli eretici IBN casa editrice grazie ancora Bordoni alla prossima intanto sappiamo già che cosa è successo tutti sanno cosa è successo è inutile continuare a parlare e per questo sei un eretico tutti esatto esatto c'è anche Giordano Bruno in copertina grazie buon lavoro grazie Bordoni chiudiamo il capitolo andando a sentire dal punto di vista istituzionale abbiamo ricordato le parole di Mattarella ma un passaggio ora dell'intervento del Presidente della Camera Roberto Fico in occasione dell'incontro con l'Associazione dei Familiari delle Vittime questo è un incontro avvenuto il 21 giugno scorso sentiamo il Presidente della Camera alcuni tasselli sono ormai acquisiti in sede civile come è noto la magistratura in via definitiva ha ribadito che la causa più probabile della sciagura di Ustica va individuata nel lancio di un missile ed ha stabilito che gravava sul Ministero della Difesa l'obbligo di assicurare la sicurezza nei cieli e di impedire l'accesso di aerei non autorizzati o nemici e sul Ministero dei Trasporti l'assistenza e la sicurezza del volo ciascuna istituzione deve ora adoperarsi perché gli altri tasselli della verità emergano e siano posti nel giusto ordine per parte sua la Camera sta proseguendo in questa legislatura l'azione di declassificazione versamento agli archivi e pubblicazione di tutti gli atti relativi tra le altre cose alle vicende oscure degli anni di piombo acquisiti o formati dalle commissioni parlamentari di inchiesta tutti consultabili sul portale unico delle commissioni di inchiesta ci sono infine altri due punti su cui intendo ribadire l'impegno mio e di tutte le istituzioni il primo è volta ad assicurare l'effettiva attuazione delle direttive adottate dai Presidenti del Consiglio e dei Ministri al fine di rendere pubblici i documenti relativi ad alcuni tragici eventi degli anni di piombo mi riferisco in particolare all'applicazione della direttiva dell'aprile del 2014 cui risultati come più volte sottolineato dalle associazioni dei familiari delle vittime non sono ancora soddisfacenti occorre anche valutare con attenzione l'opportunità di riformulare alla luce dei rilievi delle associazioni la direttiva in modo di realizzare la più ampia ed effettiva pubblicità dei documenti in questione sono convinto che questo sia un tema da mettere presto in agenda il secondo attiene all'esigenza di ottenere massima collaborazione dalle autorità di altri paesi che potrebbero essere coinvolti nelle vicende oscure della nostra storia per parte mia ho sottoposto al Presidente dell'Assemblea Nazionale Francese Richard Ferran l'esigenza di una piena cooperazione della Francia nel percorso di verità sulla strage di Ustica ne abbiamo parlato anche nell'ultimo colloquio che abbiamo avuto pochi giorni fa e così dunque il Presidente della Camera Roberto Fico il 21 giugno scorso l'incontro con l'Associazione Familiari delle Vittime della Strage di Ustica con le parole del Presidente della Camera chiudiamo anche questo terzo capitolo di Crimini e Criminologia tra poco la consueta Galleria degli Orrori un altro serial killer da scoprire insieme di cui parlare quindi restate sintonizzati sul 264 del Digitale Terrestre